Musica Ben ritrovati cari telespettatori, oggi è sabato 14 ottobre, questa è la rassegna stampa di Fano TV al mattino in diretta alle 7.30, visibile anche su Facebook in diretta allora salutiamo tutti quelli che ci guardano attraverso la rete cominciamo dal Santo del Giorno, oggi la Chiesa ricorda un Papa, San Callisto I San Callisto I, intanto torniamo indietro nel tempo perché siamo nel 220 nella Roma antica e possiamo dire di questo Papa che quando fu ucciso il suo corpo venne preso dai fedeli e lo seppellirono sotto l'altare di Santa Maria in Trastevere il sole è sorto alle 7.21, tramonterà le 18.27 minuti, il tempo per tutta la settimana è stato bello lo sarà anche per questo fine settimana, infatti come vedete dalla grafica della protezione civile anche oggi avremo cielo sereno o poco nuvoloso, con temperature senza variazione di rilievo Ascoli Piceno avrà 25-26 gradi oggi alle 2 del pomeriggio più o meno siamo intorno ai 20-22 in tutta la regione eccetto chiaramente la parte diciamo dell'entroterra e della montagna dove più si sale e più scende la temperatura ma comunque in linea di massima queste sono le temperature le giornate saranno belle, belle soleggiate anche nei prossimi giorni addirittura tutta la settimana prossima il resto del calino, la prima pagina, la città ripulita questa è la fotografia di uno sgombero, quello di via dell'Acquedotto dove sono state demolite tre baracche i Rom sono stati invitati a lasciare il posto controlli anche con i cani antidroga nel piazzale la città ripulita però i Rom chiedono perlomeno di poter tenere i materassi sotto la testata, migranti, l'ordine del prefetto i residenti non devono fotografarli è una circolare che è stata inviata ai vertici delle forze dell'ordine delle forze di polizia Luigi Pizzi, il prefetto di Pesaro, dice altrimenti nei quartieri di Borgo e Pozzo crescerà ancora di più la tensione tra i residenti e i migranti e si impedisca alla gente di identificarli ma il sindacato di polizia è critico su questa lettera su questa circolare e dice beh, le priorità sono sbagliate può essere giusto tutto quanto però le priorità sono altre Amarotta dal fallimento di One Way all'asta 88.000 capi di abbigliamento a Marchio Siviglia mentre a Rimini l'auto tampona e dal sedile spunta un coltello lungo 38 cm un 26enne è stato denunciato ma la notizia che ieri a un certo punto è apparsa sui siti internet compreso il nostro chiaramente è che c'è stato un episodio spiacevole o perlomeno la federazione che raccoglie, raggruppa le persone affette purtroppo da una brutta malattia quella dell'epilessia ha divulgato la notizia che in un ristorante di Marotta in una pizzeria di Marotta in un ristorante e pizzeria sul lungomare di Marotta si è verificato uno spiacevole episodio ai danni di una paziente appunto di una donna affetta da questo male una donna di 47 anni affetta da una grave forma di epilessia ha avuto una crisi improvvisa doveva essere una serata tranquilla in questo ristorante invece Susanna, questo è il suo nome se lo ricorderà a lungo perché il titolo fa subito saltare i nervi però poi bisogna vedere un po' il rovescio della medaglia e sentire un po' tutte le campane allora il titolo è vai a casa spaventi i clienti la reazione della titolare dopo il malore di una donna caso denunciato dalla federazione italiana appunto epilessie lei la ristoratrice anzi in questo caso il Correo Adriatico Jacopo Zuccari ha raccolto lo sfogo della figlia della ristoratrice dice mai dette quelle parole mia madre anzi l'ha aiutata e tra l'altro pure un nostro familiare ha la stessa patologia ora sia la ristoratrice insomma si è offerta la figlia ha detto insomma noi siamo disponibili per un incontro per poter chiarirci ancora meglio però non è vero quello che da ieri con un tam tam sempre più crescente su Facebook in particolare sui social network è stato detto non è vero assolutamente questo è quello che dicono che dicono appunto i titolari la stessa notizia si trova sulla pagina 21 del resto del Carlino il titolo è colpita da crisi epilettica nel ristorante invitata a mangiare le pizze a casa sua in realtà lei dice la titolare poiché avevano consumato già i primi ma avevano lasciato a metà le pizze mi sono offerta di incartarle per fargliele portare a casa ma l'uomo ha risposto il marito della signora ha detto che non c'era bisogno poi ha pagato il conto e se non sono andati via fine questo è quello che ha dichiarato a Sandro Franceschetti del resto del Carlino è una donna di Fabriano la denuncia scatena insulti su Facebook appunto il comune chiede il Codacons che è l'associazione che tutela i consumatori il comune chiede il Codacons chiarisca la posizione di questo ristorante il carnevale il carnevale di Fano a pagamento lo sapete il prossimo anno si paga un biglietto di ingresso la scelta coraggiosa ma sacrosanta è stata fatta dalla carnevalesca l'altra sera che al noto ristorante Pesce Azzurro ha tenuto l'assemblea con tutti i soci via libera dai soci ecco il carro di Rossini la foto è per il maestro Pierluigi Piccinetti che mostra i suoi bozzetti possiamo dire per chi ancora non l'avesse inquadrata bene la questione che il carnevale appunto sarà a pagamento 10 euro costerà il biglietto ed è il biglietto standard però poi ci sono tutte le variazioni ci sono tutte le varie situazioni per esempio i bambini sotto un metro e trenta sotto i 130 centimetri entreranno gratis così come le persone chiaramente disabili poi i ragazzi fino a 16 anni e gli accompagnatori dei disabili avranno diritto all'ingresso ridotto a 5 euro mentre i gruppi mascherati composti da almeno 20 persone pagheranno 7 euro a persona così come chi ha più di 65 anni per quanto riguarda i palchi le tribune l'ente carnevalesca ancora deve decidere si ne parleranno nei prossimi giorni mentre attenzione chi ha la tessera del 2018 dell'ente carnevalesca pagherà soltanto un euro ok? e poi avrà anche ingressi omaggio nei parchi di acquafan oltre mare eccetera eccetera ora c'è da capire una cosa importante per esempio il carnevale dei bambini del mattino abbiamo già detto anche nel corso del telegiornale quell'appuntamento del mattino che l'anno scorso ma anche negli anni scorsi insomma è cresciuto a livello di pubblico un appuntamento molto soprattutto partecipato dai genitori dalle mamme con i bambini ecco quel momento sarà di nuovo sarà gratis o sarà a pagamento il circuito verrà chiuso al mattino e quindi non sarà più possibile accedere all'interno di Viale Gramsci senza il biglietto sin dal mattino oppure il pomeriggio bisognerà capire anche perché se si fa pagare il pomeriggio e non il mattino chiaramente va da sé che molti andranno al mattino senza andare al pomeriggio poi il pomeriggio è il clou con le caramelle e quant'altro siamo tutti d'accordo però se si fanno sfilare i carri anche al mattino certamente uno dovendo scegliere può darsi che si rischia di avere un effetto boomerang importante insomma sono tante le cose però io credo che la scelta dell'ente carnevalesca di far pagare un biglietto sia una scelta obbligata in un momento certo di crisi come questo ma insomma se si vuole salvare il carnevale bisogna pensare anche a di far pagare che ognuno debba fare la propria parte andiamo di nuovo a Pesero chiudiamo la parentesi del carnevale oggi è sabato possiamo anche divagare un pochettino la città ripulita sgomberate e distrutte tre baracche i Roma vogliono tenersi però i materassi parco 25 aprile in azione i vigili e la ruspa di marche multiservizi altro blitz nell'aprile scorso la stessa famiglia però non se n'era andata e quindi era rimasta poi nei pressi a Urbania un bracere un bracere in camera da letto i coniugi rischiano di morire il marito sviene la donna riesce a chiedere aiuto paura l'altra notte in un appartamento di piazza Cristoforo appunto ad Urbania sono arrivati poi i mezzi del 118 che hanno prestato le prime cure alla coppia sono coniugi di nazionalità senegalese lui di 43 anni e lei di 27 sono stati evacuati anche da altri inquilini i rischi sono stati superati la pagina di fame invece del Corriere Adriatico anche qui il carnevale sarà un carnevale da 0 a 10 euro decisi i prezzi e le agevolazioni gratis bimbi e disabili sconti per gli over 65 l'obiettivo introiti per più di 100.000 euro questo è quanto dichiarato dal nella foto c'era anche il vice sindaco Marcheggiani la pagina di Fano invece del resto del Carlino è per il Fano Film Festival sarà un'edizione di rottura Fiorangelo Pucci niente legami con il comune promuovere un altro concorso promuove un altro concorso senza dir nulla Ceriscioli visita i colleghi siamo nella pagina di Urbino avanti con i lavori al Tridente prosegue la ristrutturazione ci rivediamo ci rendiamo conto del loro valore strategico e poi dalla Valle del Cesano del Corriere Adriatico terre roveresche tre mesi dopo sociale scuola e sport ci siamo il primo bilancio del sindaco Sebastianelli che dice sono state attivate 25 borse di lavoro con 87 ore di sostegno e accoglienza per disabili sulla modifica allo statuto scarsi riscontri faremo appositi incontri con tutti i cittadini le strade groviera le strade groviera dell'entroterra da oltre 5 anni auto e camion vanno a Zizzag non solo dell'entroterra ma anche quelle della città qui siamo nella Valle del Cesano a Mondolfo criticità in Via De Gasperi e Via Mattei danni da 400 euro alle sospensioni delle macchine gli operai segnalano disagi nella zona industriale ma anche in centro regna l'incuria Senigallia la ragazzina fa troppe assenze a scuola lei dice si giustifica è mio padre mi picchia e quindi finisce in comunità la preside chiama la polizia ai servizi sociali la 17enne non può restare in casa le indagini devono adesso fare chiarezza dice il dirigente dei servizi sociali Maurizio Mandolini non sappiamo se dice la verità ma noi dobbiamo comunque intervenire trova 70 euro e li porta ai vigili urbani è un gesto che dovrebbe essere nella normalità ma fa notizia trova 70 euro per strada dei consegni dei vigili urbani erano solo soldi due banconote sul silciato di via Cesare Battisti la via del teatro li avrebbe potuti prendere dentro non c'era nulla non c'era però questa donna li ha portati al comando di polizia municipale e a proposito di soldi anche questo questo signore ha trovato il vecchio deposito in una casa del nonno defunto 500 mila lire 250 mila euro bel gruzzoletto però va in banca e che cosa si sente dire mi dispiace non può ritirarli perché questo libretto ormai è vecchio e allora questa è la storia che troverete a pagina 5 del Corriere Avriati di questa mattina trova il vecchio libretto del nonno il tesoretto ora è carta straccia già in passato depositi datati sono stati ritenuti di nessun valore ma per l'avvocato ci sono margini di manovra è tutto la rassegna stampa di oggi finisce qui grazie per averci seguito a voi tutti l'augurio di una buona giornata grazie a tutti grazie a tutti